Grazie ancora. Ciao. Eva. Come? Mi chiamo Eva, e tu? Ah, io, Davide. La proteine funziona e cercate di capire, no? Perché all'interno del Neuro. Ok, ma solo se parli tu. Io non so cosa dire. Sei timido? Si vede. Eh, non ti ha più chiamato? No, lo chiamo mille volte io, ma... Eva! Boh, Eva, come stai? Stai male? Ecco. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ma io non volevo neanche venirci, sta merda di casa. Ma tu non puoi parlare mai in questo modo. Non provare neanche a nominarlo, mio padre. Neanche lo conosci, stronzo. Basta. Eva, hai superato ogni limite. Vai in camera tua e scendi l'ora di cena. Ci devo pensare. Ma neanche noi sappiamo cosa ci sono. E poi non mi va di essere usato da Francesca Travano per un suo torno a conto personale. Ciao. Io sono Eva. Tu devi essere Davide, vero? E tu che cosa ci fai qui? Tu stai via un anno? Torni a casa? E ti scopri la ragazza che mi piace? Era lei? Certo che era lei. Te l'avrò detto un milione di volte. Ma tu con la santa non mi stai sentendo... E voglio sapere i tempi e i motivi dell'operazione. Altrimenti non ci sto. Perché il nostro intervento dipende dall'andamento di alcune operazioni finanziarie tra le banche degli Emirati Arabi. Chi vi passa le informazioni? Sei per la mia vita, eh? Fammi un favore, fatti gli affari tuoi e non stressarmi più. Di quanto sei importante per me. Con l'amica. Il nostro amico arriva domani pomeriggio. Sai cosa fare? Senti, io ci ho pensato. Non so se vuole più starci in questa storia. Anche... Sì. Dei! Non hai mai smesso di amarla, vero? Sparagli! Sapevo che quel vigliacco non era affidabile. Mi ricordo quando non esitavi a dare del vigliacco. Stai pronto? Sì, guarda! Coi! Ti svolgono! Cos'hai scambiata? Cosa stai facendo? Scappi, la vogliono uccidere! Scappi, la vogliono uccidere! Tolli lì, strogy! Maravilla, scappi, la vogliono uccidere! Merda! Grazie a tutti.